L'hotel è nato da un sogno, da un'ispirazione che ho coltivato io, che ho condiviso con la mia famiglia. Si trova in un palazzo in centro a Milano, che è stato da noi ristrutturato. Era prima una casa signorile e oggi è diventato un albergo. La struttura è stata concepita un po' come un castello, quindi all'interno si trova tutto. Addirittura un teatro piccolo, da certoposti, che si trova dove c'è il nostro bar Mezzanotte e dove gli ospiti possono avere i loro eventi privati e assistere a qualcosa di veramente nuovo. Poi c'è la nostra spa, che si chiama Amore Psiche. È un pensiero legato più a coltivare la bellezza interiore che a quella esteriore, quindi prima lavorare sulla psiche e così conquistare luminosità e bellezza senza bisogno di trattamenti magici, ma semplicemente rasserenandosi e godendosi del tempo. Ci sono piscine, una spa privata anche per la coppia, proprio per dare dei momenti di intimità. E poi infine la ristorazione, il ristorante Rubacuori è pensato proprio per i momenti romantici e per gli appuntamenti, anche di lavoro, dove l'idea di svagare l'ospite con un'ambientazione un po' diversa, un po' serena, un po' magica, possa dare poi luogo a incontri futuri di business, di lavoro e d'amore, e diventare appunto un punto di incontro per la città. La nostra idea di ospitalità è dove l'ospite è accolto da noi, che siamo in prima linea assieme al direttore e al maestro de Maison, per poter far sentire l'ospite davvero nella loro seconda casa a Milano.